È arrivato il momento della nostra ospite Silvia Gatti, anzi è arrivato il momento della nostra super radio gattona Mamma mia Ma come? Hai la sigla La faccia alla radio Non hai baffi, no, i baffi non c'è mai Se li vedi da vicino un po' Però Sono proprio blu però Sono verdi, è una gioia, lasciamela Silvia Gatti Buongiorno a tutti e a tutti, buongiorno a dire, grazie sempre per la sigla di cuore Veramente di cuore Non sei una bimba degli anni 80 anche tu Sì, però volevo avere una credibilità radiofanica che tu mi hai completamente sciubata Io pagherei per avere una sigla così No, io non ti pago Allora, oggi tutto bene con l'acqua e i gommoni a Milano? Sì, abbastanza Qua c'è andata ancora bene Dall'altra parte, a nord è stato un disastro Lambro, dalla parte di Lambrati è buono, dalla parte di Ponte Lambro è un disastro Fa anche un po' freddino, viene quasi voglia di Pandoro Oh che, 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 mamma mia, che gancio Perché oggi abbiamo nuovamente per la seconda volta ospite Alberto Mattia Ci sono gli applausi? Ciao, ciao a tutti Alberto Mattia Buongiorno Alberto Buongiorno a voi Sappiamo che ha fatto, diciamo, ha avuto una collaborazione importante con Selvaggia Lucarelli In quanto, nel nuovo libro appena uscito, il vaso di Pandoro, Ascesa e Caduta dei Ferragnez, ha, diciamo, contribuito, ha scritto delle pagine molto importanti C'è il suo nome proprio stampato sul libro? Il tuo c'è? No, neanche il mio Ma me l'ha regalato il libro, ti è, ecco C'è scritto a penna con una dedica Con una dedica, stellino, capisci? Bravo Alberto, bravo E poi parleremo anche della presentazione del libro che ci sarà a Milano Ho letto dalle stories di Selvaggia che è stata aggiunta addirittura a una data in cui parlerete forse però di altro Cioè è diviso in due la presentazione No, allora, sicuramente la data del 23 maggio in origine deve essere la prima presentazione E poi, appunto, Selvaggia ci ha dato l'onore di farla con noi parlando anche di crisis management al Cinema Gloria Ne farà sicuramente altre, presumo tante altre In Italia, allora, a questo punto In Italia sicuramente, ma anche a Milano ne farà altre In Milano, per forza Sicuramente sì, anche perché nonostante al cinema ci saranno quasi 300 posti Sono andati via in 40 minuti Già l'è stata attesa, infatti No, no, in 40 minuti proprio subito polverizzati Capisci? No, vabbè Vogliamo dire che tutte queste persone evidentemente e anche, insomma, questo è un po' di più Libro che è ai primi posti, forse, su... Che io sappia è primo Che è primo Non è solo gossip Perché la gente sente Ferragnez, Fedez, Chiara Ferragni e dice Ma basta, ma che quale E invece Alberto è qui per spiegarci perché non deve essere vista così questa cosa Ma allora, innanzitutto, ovviamente non è solo un libro di gossip E aggiungo che non è un libro sui Ferragnez, secondo me Ecco, oh, finalmente Questo è la vera... secondo me è il vero succo Io che ho avuto la fortuna di leggerlo Posto che adesso è uscito da qualche giorno In realtà da tre giorni Quindi tanti l'hanno già letto E qualcuno l'ha già anche finito Ho fatto anche questo piccolo sondaggio Su... sulle mie pagine Instagram E però, diciamo, quando l'ho letto Ho capito subito che innanzitutto del Pandorogate Non se ne parla fino a metà Abbondante Quindi clickbaiting Selvaggia, però Selvi Non ne ha bisogno No, effettivamente però il problema è proprio questo Non so, il marketing e il contromarketing Cioè uno appunto prende il libro Pensa che parla solo di Ferragnez Ovviamente la copertina, insomma, non è che ti fa pensare anche a quello un pochino Ma allora, evidentemente Invece c'è molto di più Questa è la cosa interessante di questo libro Diciamo che secondo me potrebbe essere considerato un trattato sui Ferragnez Perché poi effettivamente si parla di Chiara Ferragni, di Fedez Fin dall'inizio del libro Non è che non se ne parli, anzi Però secondo me è quasi un espediente narrativo Perché è più un... secondo me è veramente un saggio Sul funzionamento della società moderna Sul funzionamento dei social Io ho contribuito in minima parte Però la verità, nel senso che il mio contributo sono cinque pagine Su un lavoro di inchiesta giornalistica Che complessivamente sono 249 pagine di libro E ho contribuito sul tema della gestione della crisi Che come sapete è la mia competenza anche professionale Diciamo che poi i Ferragni sono il caso Sbelli Cioè è la scintilla che fa partire tutto un ragionamento Sono un caso di studio Infatti è la case di storia Come si dice in questo caso Come è stato gestito anche tutto quello che c'è dietro Chiara Ferragni Addirittura c'è gente che... Scusami il microfono C'è gente che dice che lei non sapesse quasi nulla Di quello che succedeva nella sua società Nelle sue società Addirittura si parla anche di ex dipendenti Che hanno testimoniato Con nomi ovviamente falsi Lei sì firmava i contratti alla fine Però c'erano delle situazioni Per cui sembra che lei Insomma non fosse... Può essere possibile una cosa del genere Allora non... È plausibile È plausibile Mi fido poi dell'inchiesta di Selvaggia Che insomma avendo scritto cose di questo genere in un libro Immagino che abbia tenuto le fonti È un'inchiesta Non è il sentito dire O la sua antipatia No assolutamente È diverso Ma infatti L'antipatia verso... Dico che può avere verso Chiara o Federico insomma Però è una giornalista Secondo me non c'è neanche l'antipatia Nel senso che se uno legge il libro Capisce che un lavoro di questo tipo L'avrebbe dovuto fare la stampa italiana Diciamo in generale Da subito Sul fenomeno di Terra Ferragni Sì E l'avrebbe anche aiutata Perché probabilmente Questa non doveva neanche essere una crisi Io ho scritto questo contributo Quando il libro era già finito Non l'avevo letto Quando ovviamente Selvaggia mi ha fatto cinque domande Io ho risposto Le ho mandato il testo scritto Poi lei l'ha inserito In quello che era il libro Che lei già stava scrivendo Io poi l'ho letto Quando era fatta e finito E mi sono reso conto Perché molte cose non le sapevo neanche io Evidentemente non avendo fatto io l'inchiesta Che in realtà Tutto il contenuto del libro Richiama concetti Che non sono solo di crisis management Ma anche di gestione del rischio Gestione della resilienza organizzativa Se vi ricordate L'ultima volta che ero venuto qua Avevo parlato un po' di tutte queste tematiche E Diciamo Questo poteva essere Un banalissimo Incidente Tra virgolette Di Scarsa consapevolezza Che non è stato gestito Che poi è montato E che è diventato quello che è diventato E che poi ha prodotto Già Una sorta Tra virgolette Di sentenza Nel senso che comunque La multa Da un milione di euro E passa Alle due società di Chiara Ferrani E 420 mila euro A Balocco Già C'è stata Da parte la GCM Insomma Quindi Tanti sono i motivi Per appunto Dare un'occhiata al libro Leggerlo per bene Divorarselo E anche Quelle cinque pagine Insomma Sono fondamentali Perché si capisce un po' Che Che non è solo appunto Marketing Non è solo Ma la comunicazione È forse una gestione Che si potrebbe imparare Anche appunto Da quello che fate giornalmente voi Andiamo con un po' di musica Poi torniamo ancora qui Sempre in diretta Con Alberto Mattia Con Silvia Gatti Con il libro Di Silvagio Lucarelli E con tutti voi Che comunque ci potete scrivere Come ha fatto ad esempio Nello Al 331 7853555 Con un semplice Lacronico Ma molto incisivo Ciao Silvia Voilà Ecco così Semplice Allora andiamo avanti con la musica Malika Jan Una ragazza Malika Jan È una ragazza 8 e 20 minuti È una ragazza È qui al mio fianco Si chiama Silvia Gatti Ah io Ragazza Grazie Silvia Allora stiamo appunto Chiacchierando con Alberto Mattia Stiamo capendo un po' bene Cosa c'è appunto Del tuo contributo All'interno di questo libro E che questo libro È ben più di quello Che mostra la copertina In un certo senso Assolutamente Perché Ferragnez È per molti gossip E invece Alberto Ci dicevi Che si può partire Da quello che è successo Prima Chiara Ferragni Che poi in qualche modo Ha coinvolto anche Fedez Per parlare invece Di come vanno gestite Le crisi A questi livelli Io sentivo anche Comunque il team Di Ferragni Che ha dichiarato Siamo arrivati ad un punto Così alto Che non avevamo proprio Le risorse Per gestire Tutto il successo Tutto il denaro È anche una sorta Di ammissione Però uno dice Pensateci prima Cioè crescete così Di volume No dico banalmente La voce del popolo Pensaci prima Assumi un Alberto Eh Alberto La facciamo troppo facile Noi altri Sì allora Secondo me innanzitutto Una crisi A questo livello Questa in teoria È anche una crisi Facile da gestire Dal punto di vista tecnico Capisci Non doveva neanche essere Una crisi È come dicevi prima È un tema Diciamo che Se trattato Indirizzato correttamente Non sarebbe mai dovuto Essere Una crisi Appunto Quindi Bastava Una semplice accortezza Io dico Quando ho fatto Diciamo una piccola Videorecensione del libro Appena l'ho letto Ho avuto la fortuna Di leggerlo in anteprima E ho detto Il tema di fondo Di questo libro È la superficialità Ecco Quindi Obiettivamente Questa superficialità Ha poi generato Quella che è stata La crisi Non male Non male Perché non di chi l'ha scritto Perché di solito È la superficialità Di chi scrive il libro Invece in questo caso Non è la superficialità Di chi ha scritto il libro Ma la superficialità Della storia Che c'è dentro il libro Perché non è poi Sì sì assolutamente Delle scelte prese Ma come si fa A essere superficiali Però con tre società O non mi ricordo Quante ne ha Due società Ne ha due Come si fa Non lo so Non hai assunto Alberto Mattia Non è evidentemente Quello il tema Ma secondo me Non serviva Neanche un consulente Per forza Stai dicendo Che fanno schifo E basta Nella gestione No no È veramente Un caso di superficialità Io non ho sentito Onestamente la dichiarazione Ma se dicono Che è stata una mancanza Di risorse È chiaramente Un Non si sono accorti Che dovevano aggiungere Rispetto a come Sono partiti Non si sono accorti Ma infatti Secondo me Lì la colpa La colpa È un po' Di tutti noi Della politica Della stampa Del giornalismo In generale Perché è chiaro Che se tu hai Ucce umanamente Io capisco anche Questo atteggiamento Per quello Dico Non è che facciano schifo Io non voglio dire No era una Per dire Non fare una battuta Capisco la tua battuta Però il discorso è Tutte queste persone Che circondavano Chiara Ferragni Non hanno fatto altro Che adularla E per tutte queste persone Intendo anche I milioni di follower Quindi un po' Tutti noi I giornalisti I giornalisti Le hanno fatto passare Qualsiasi cosa Molti influencer Anche La sua cricca Insomma Con tutto il rispetto Ma non perché facesse Necessariamente qualcosa di male Però il discorso è Interrogarsi sul fenomeno Ci siamo tutti Sempre interrogati Sul fenomeno Guardando solo L'aspetto patinato Il successo Senza però approfondire Quando poi Io sinceramente Io anche Faccio mea culpa Nel senso che Non sono il target Di Chiara Ferragni Non l'ho mai Non l'ho mai Non l'ho mai seguito No ma non per Attenzione Non per snobismo Perché anche chi dice Questo è un libro di gossip Non è un libro di gossip Evidentemente Però c'è chi dice Cito la mia amica Vittoria Pietra Psicologa Psicoterapeuta Che avremo Prossimamente Il gossip è anche Un'abilità superiore Secondo alcuni Interessante questa cosa Il gossip non è necessariamente Un qualcosa di minore Sì Quindi Non bisogna essere snob Io non è che non seguissi Chiara Ferragni Per una questione di snobismo Perché sapevo chi era E poi alla fine La seguivo anche Senza mettere il follow Il follow su Instagram Quindi Il tema è sempre quello Diciamo Tutti un po' superficialmente Abbiamo visto La punta dell'iceberg Senza vedere Quello che c'era sotto Nessuno ha mai questionato Alcuni modi di fare Fondamentalmente Non li devo questionare io Li doveva questionare Forse Fabio Maria D'Amato Il manager Non che è il migliore amico Forse anche noi pubblici Dovevo piantarla Di incensare Chiunque faccia qualcosa Di buono e bello Alla prima volta Che lo fa E capire Come ci arriva Da dove arriva Che cosa va E quale sarà Il suo progetto Rivendico il diritto Delle ragazzine Delle ragazze Delle signore Di guardare solo La cabina armadio Di Chiara Ferragni Senza pensare Dove stia finendo Lei La stampa Magari no Assolutamente Certo Una ragazzina di 13 anni Che segue Chiara Ferragni Che colpa può avere Che cosa vuoi Che gliene freghi Chiaro che voglio dire Poi sui più giovani Senza dubbio Ci sono tutte le attenuanti Del caso Perché fa la responsabilità E degli adulti Della società Che poi attenzione I più giovani Sono quelli però Che subito Hanno cominciato Dire attenzione I più giovani Sono quelli più attenti A volte a certi risvolti Non sottovalutiamo Spesso parte da loro Spesso parte da loro Perché Secondo me Ripeto Tutto questo Questa Come si può dire Ossessione di massa Che c'è stata Verso il fenomeno Non verso Chiara Ferragni Un fenomeno Bravo Il fenomeno degli influencer Poi in generale Perché non siamo più ampio È un qualcosa Che secondo me Tra qualche anno Verrà visto Come Adesso vediamo Delle cose del passato In prospettiva E diciamo Ma come potuto L'ennesima bolla Una bolla dot com Bolla dei bitcoins Come è potuto succedere No E Obiettivamente Poi Secondo me Dal punto di vista Invece degli adulti Secondo me Due domande Dobbiamo iniziare a farcelo Un po' Su tutti i fenomeni Poi è chiaro Che il giornalismo Non ha aiutato La politica Non ha aiutato Perché La politica La sinistra Ha preso I Ferragnez Come un modello Per delle cose Certamente giuste Che loro dicevano Sul tema Dei diritti civili Però Non toccavano I temi Come dice Selvaggia Lucarelli Non voglio appropriarmi Di concetti Non solo mie Dei diritti sociali Dell'aspetto sociale Della vicenda Quindi In questo libro C'è molto di più Del gossip Tra virgolette Senza voler denigrare Il gossip Chiaro Chiaro Io sarei anche Per il ritorno A Lasciamo fare Agli influencer Certe cose E aspettiamoci Altre questioni Da altri tipi Di personaggi In che senso Mi fa ridere Quando scrivono Sotto ai post Degli influencer Ema Gazza Ema La Palestina Io sinceramente Sentir parlare Una Chiara Ferragni Una Giulia Salemi Di Gazza A Palestina Anzi è peggio No ragazzi Cioè per me no Fanno un'altra cosa Lasciamo a chi lo sa Quando sono scesi Tutti in piazza Per Quando purtroppo È morto Un afroamericano Quattro anni fa Sono scesi in piazza Anche Chiara Ferragni E Fedez Ma cosa volete Poi non se n'è più Parlato E questo è un esempio Perché sono Cavalcano l'onda Secondo me Non solo loro Ma non sono dei personaggi Che veramente Si impegnano Per delle cause Non è un Gali Che sappiamo essere da sempre Legato a tematica Ad esempio Certo ma anche Lo stesso Fedez Che sembra Faccia beneficenza Ha ragione selvaggia A ragione selvaggia Lucarelli Quando dice Separiamo bene Che cos'è la beneficenza Dalla beneficenza Che però poi dietro Ha ben altro In realtà Quindi giri di soldi Da una società All'altra Sì Era quello di Chiara Ferragni E Fedez Secondo me Determinati messaggi Devi provare A farli uscire Chiaramente Non vuol dire Poi banalizzare tutto E non lasciar Parlare gli esperti Però Devi avere Un'attenzione Secondo me Sociale Diversa Da quella che hanno avuto Probabilmente Loro Che invece Su determinati temi civili Hanno anche fatto Delle battaglie Volendo diciamo Meritorie Il punto è capire Quanto quelle battaglie Erano effettivamente Sincere O quanto erano Dettate da un tornaconto Sì E quindi Vabbè Adesso insomma C'è tanto altro Adesso approfondiamo Certo Continuiamo Infatti Anche qui Continuiamo con Un po' di musica E poi torniamo qua Sempre a parlare Appunto Con Alberto Mattia E Ferragni Ragazzi Dove sono? No Loro non ci sono Se vuoi invita Magari Sentiamo Chiama un attimo Selvaggia Eh certo Un attimo Andiamo avanti Achille Lauro 1290 Gianna Nannini Bello e impossibile E di chi stiamo parlando Sicuramente Non di te dire Perché sei interessante Ma bello e impossibile Abbi pazienza Simpatico Sei un tipo Sto scherzando Dire Ti ho detto che anche tu C'hai il tuo Se vuoi La sporca figura La faccia Esatto Siamo comunque Con una persona seria Oggi infatti hai messo La camicia Anche tu per quello Seria bella e impossibile Vedi No parlavo di La mattina No parlavo di Fra l'altro prima mi fai No perché domani Vado a Londra Io volevo dire Domani sono a Busto Garolfo Però va bene è uguale Ognuno ha il suo Ognuno ha quello che si merita Allora parliamo del libro Il vaso di Pandoro Di Selvaggia Lucarelli Ascesa E caduta Dei Ferragni Ma c'è molto Molto di più da dire Perché stacchiamoci Da questo concetto Del Gossip Chiara Federico I bambini Ormai che non si possono più Vedere di faccia Nelle stories Le denunce Che sono partite Per l'una E per l'altro Un casino Invece Invece Il nostro Alberto Ci spiega Cosa c'è In questo libro Che può servire A capire Non di più Di chiaro Di Federico Ma di quello Che è successo Dal punto di vista Un po' imprenditoriale Possiamo dire così Addirittura Questa cosa Noi poveri mortali Comuni Che non ne sappiamo nulla Di queste cose Sembra una roba gigantesca Che appare anche Un po' contribuito Ad esempio Al loro Imminente divorzio Comunque alla separazione Invece Alberto Dal suo punto di vista Esperto appunto Di crisi Dice Ma questa era una cosa Che poteva essere Benissimo affrontata In un altro modo Giusto Alberto? Sì Allora Io ho anche avuto modo Di dire che secondo me Questo è un libro Che dovrebbero leggere Imprenditori Imprenditrici Manager d'azienda Perché è quasi appunto Un trattato Che spiega Che cosa non deve essere fatto Dal punto di vista Della gestione Aziendale Ancora prima Che la gestione della crisi Poi Secondo me Non è da sottovalutare Il fatto che In Italia C'è un tessuto economico Che in larghissima parte È costituito Da piccole e medie imprese E quelle di Chiara Ferragni Nonostante i numeri Alla popolarità Di Chiara Ferragni Sono piccole e medie imprese Hai visto Mai l'avrei detto Ma non sono grandi aziende Lei Dai numeri che ho letto Mi pare che avesse Tra le due società Una sessantina di dipendenti Quindi Certo è vero Si parla di un'azienda Medio piccola Anzi piccola C'è un'azienda di metallurgia Nella Brianza Che hanno ben più Sessantina Facciamo un esempio Invece di azienda grande Le aziende grandi Le multinazionali No senza Bisogna distinguere Tra aziende grandi E grandi aziende Grandi aziende Anche una piccolissima impresa Può essere una grande azienda È ben inteso Cioè qua stiamo parlando Di termini dimensionali Sì E dal punto di vista dimensionale Sicuramente erano piccole aziende Quelle di Chiara Ferragni Ma come sono piccole aziende La mia ad esempio Sì Che è ancora più Molto più piccole Vogliamo dire come si chiama Pantarei Ecco Ma in generale voglio dire Più del 90% Delle aziende di questo paese Sono micro imprese O comunque piccole e medie imprese Quindi I temi in qualche modo Di gestione aziendale Che Vengono toccati da questo caso Che è molto emblematico La ragione per cui Poi c'è un interesse Spasmodico Rispetto alla vicenda Tanti lo considerano eccessivo Io non penso che sia eccessivo Perché obiettivamente È un fenomeno Che Riguarda tutti Anche chi non segue Chiara Ferragni e Fedez Certo Perché comunque sono Sono stati definiti anche nel libro La royal couple italiana È un po' È vero dal punto di vista mediatico e sociale Lo sono stati Social anche Più che sociale Sì Lo sono stati E probabilmente lo sono tuttora Sarà per l'interesse Indiscutibile Quindi Senza dubbio è un caso emblematico Che ci dà l'opportunità di riflettere Non tanto su Ferragni e Fedez O sulle società di Chiara Ferragni Ma un po' su noi stessi Secondo me Io Il suggerimento Che ho dato un po' a tutti È quello di leggere questo libro Cercando di riportare Tutto quello che viene detto All'interno del libro Alla propria esperienza personale E alla propria realtà Chiaramente poi mettendo in scala Perché poi chiunque di noi Ha un pubblico Cioè Non serve essere esposti Sui social media Per dire Ok ma io tanto Non sono Chiara Ferragni Non andrò mai In prima pagina Sui giornali Se faccio qualcosa di sbagliato Vero Certamente vero Per la stragrande maggioranza Di noi Gente comune Però comunque Hai Non so magari Hai dei clienti Hai cosiddetti Quelli che in gioco Vengono chiamati stakeholder Cioè i portatori di interesse Ma sono 40 anni Che avevo tolto a dire stakeholder Io mai l'avevo sentito In 40 anni No 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 È una roba complicatissima Vedi tu Banalmente sono Chiunque abbia un interesse Nei confronti Della tua Attività I congiunti I prossimi congiunti Ma in realtà Anche i competitor Sono degli stakeholder Cioè perché comunque Voglio dire Hanno un interesse In quello che fai tu Poi è un interesse Magari confliggente Nel caso dei competitor Ma sono degli stakeholder Quindi il discorso è Tutti noi abbiamo Degli stakeholder O dei portatori di interesse Quindi senza essere Chiara Ferragni e Fedez È importante tutelare La propria reputazione È importante Agire correttamente È importante vedere Anche I rischi In quello che fai Perché io L'ho scritto anche Nel piccolo contributo Che ho dato al libro Dai non dire piccolo Sono cinque pagine Sono pregne di significato Spero pregne di significato Aggiunte dopo Fra l'altro Quindi Non avevo letto Non avevo letto Quando ho dato il mio contributo Io risposto Valmente alle domande Quindi non avevo letto Il resto Però Cioè diciamo Quello che volevo dire È che appunto All'interno diciamo Di questo contenuto Ho cercato di far Passare determinati messaggi Che sono poi quelli Di una sana e corretta gestione Dell'azienda Una sana e corretta gestione E dimensionamento dei rischi Per cercare di capire Come comportarsi Io credo Personalmente Alla buona fede Di Chiara Ferragni In principio Nel senso che Sono convinto Che lei non avesse L'intenzione Di truffare Per stare diciamo Sul filone Di lei Sapete che è indagata Per truffa Gravata Non è ancora nemmeno Rinviata a giudizio Bisogna chiarire Però Credo al fatto Che lei non volesse Anche comportarsi In maniera scorretta Dal punto di vista commerciale Nonostante lei sia Già stata multata Per questo Però Effettivamente Quando poi Qualcuno Ti fa notare Che può essere Frainteso Un determinato tipo Di atteggiamento Che stai comunicando In una maniera Molto ambigua E che quindi In qualche modo Stai portando avanti Un tuo interesse In maniera Se non necessariamente Illecita In maniera Impropria E inappropriata Lì secondo me Devi metterti In dubbio No? Cioè Chiunque di noi Deve ascoltare Le critiche Perché Questa è una storia Che fa capire Come gli yes man E gli yes woman Di cui Si sono circondati Ferragni In particolare Di cui si riempiono Tantissime aziende Tantissimi manager Ma assolutamente Ma assolutamente Poi Riportando in scala Cioè ci sono casi Molto più rilevanti Certo Che hanno seguito Le stesse logiche E fa capire Come poi Il giornalismo D'inchiesta Secondo me È un antidoto Alle crisi Ed è una risorsa Per le organizzazioni Cioè Un falso mito Quello che il giornalismo D'inchiesta Possa far male A un'organizzazione Cioè Se un'organizzazione Mantiene un approccio Corretto Alle questioni Di cui si occupa Vede il giornalismo D'inchiesta Come vedi Non so Gli audit No Le grandi aziende Hanno queste funzioni Di audit Adesso senza entrare Nel tecnico Però sono funzioni Indipendenti Che verificano Il rispetto Di politiche Norme Regolamenti Eccetera La traduco Le recensioni Su TripAdvisor Ti fanno paura Solo se il tuo ristorante Fa schifo Ho capito Perfettamente Poi è chiaro Che c'è il problema Delle recensioni Come c'è il problema Del giornalismo Fatto male Però non resta La paura Di farti guardare in casa Se tu le cose Certo chiarissimo Poi se nascondi Le riviste Quelle del torcellone Nell'armadio Non lo fa vedere Agli altri Postal Market Eh appunto Io che ho capito Il riferimento Perché siamo vecchi Perché Postal Market No Postal Market È troppo vecchio Anche per noi Ma non sembra Tu hai fatto in tempo Ok ok Confesso Io ho una curiosità Posso adesso O prima partiamo Con la musica No Prima partiamo Con la musica Ascoltiamo un pezzo Ascoltiamo Mascaze Poi andiamo Con le tue domande Tiri tra lì Sì sono qui Va bene Mascaze con il farmacista Alle 8 e 43 minuti Qui su Cristian Radio Good morning Milano Mascaze con il farmacista La questione Ferragni La questione soprattutto Della gestione delle crisi Mi riporta A una piccola crisi Che sta avendo in questi giorni In città Dopo il caso Rovazzi Dopo il finto furto Del cellulare Dove appunto Allora devo dire Che tra l'altro Tu Sime Non so se hai visto Il filmato Era un pochino A me il dubbio Che fosse un po' finto Mi era avuto fin dall'inizio Nel senso però Però vabbè Insomma così E poi Soprattutto Quello che mi ha lasciato Sconvolto Sono le scuse Non scuse Di Fabio Rovatti Dicendo Eh non pensavo Che mi successe così Di mano La stampa Non ho pensato Alla politica Cioè Quando ci sono le elezioni Sindaco Sala Nero Maran L'assessore Nero pure lui Cioè Come è possibile Che succedano Ancora cose del genere Con dei livelli Insomma Non sono un'influenza Sono un'azienda Sì Ma allora Secondo me C'è un tema Di inconsapevolezza Adesso non voglio Entrare troppo nel tecnico Usare inglesismi Per fare il figo Come si suol dire Ma sei figo Sei tranquillo Che ne sai Ne sai Decisamente no Però Su questo puoi Quando parliamo Di gestione delle crisi C'è un Diciamo Un passaggio fondamentale Nella gestione della crisi Che è la situational awareness Cioè la Come si può dire in italiano La comprensione Di quella che è la situazione Cioè devi essere Consapevole Ecco la consapevolezza Di quella che è la situazione Sì E In un momento storico Come questo Quando è uscito Questo libro Ma in generale C'è un'inchiesta Ancora Se vogliamo Aperta Sul tema Chiara Ferragni Sugli influencer Su quel modello Perché come ho detto Ma questo non è un'inchiesta Solo su Chiara Ferragni Quindi in questo momento storico Che un Un altro influencer Peraltro poi già legato A Fedez Per storia Amici Poi litigio Che dice Non aveva pensato Alla politica Qui il tema è proprio sociale Cioè non puoi Non puoi sfruttare In qualche modo Un problema serio Come quello dei furti Il degrado cittadino Che peraltro Poi spesso viene ingigantito Ai fini di polemica politica Per promuovere Una tua attività commerciale E trarne un profitto Senza pensare che poi Ma non è tanto Il sindaco Sala O l'assessore Maran Che si arrabbiano Ho detto In maniera Sì sì Va bene Va benissimo Diciamo Il fatto di capire Che stai dando Un messaggio sbagliato Cioè queste persone Che come Fabio ha detto Sono aziende Ma anche se non sono Considerate aziende C'è un tema Di responsabilità sociale La responsabilità sociale Di impresa Se anche sei un individuo Che fa imprese individualmente Hai comunque Una responsabilità sociale E far passare Questi messaggi Utilizzare questi mezzi Secondo me È molto poco edificante Soprattutto poi Rischia di essere Un boomerang grosso In un momento storico In cui adesso C'è stata un po' Una Qualcuno ha detto Il re è nudo E quindi Si sono un po' risvegliate Le coscienze Su questo Su questo tema Ma quindi Un Rovazzi Non ha dietro qualcuno Che gli dice Asco Non farlo Perché Poi O invece ha dietro qualcuno Che gli dice Fallo fallo Bella idea Oppure Ti propongo io questa idea Rovazzi Io trovo anche scandaloso Che lui ha detto Ho fatto una rovazzata Quando ormai Qualsiasi cosa che facciamo La personifichiamo Quindi adesso Ti do un calcio nel sedere Silvia E poi dico Eh no ma ho fatto una ranfata Ci sono come le cassanate Ma cassanate Aveva fatte un po' Non mi vengono in mente Chissà cosa Che abbia fatto Rovazzi Per arrogarsi Anche il diritto Di prendersi Questo sostantivo No vero Ma poi In generale Secondo me Non va neanche bene E poi Fare la marachella Tra virgolette E chiedere scusa dopo Cioè va bene una volta Va bene due volte Però se poi diventa uno schema Se poi diventa uno schema La gente si rende anche conto È uno schema Non basta chiedere scusa Bisogna non arrivare A fare certe cose Perché poi Anche le scuse Comunque non sono abbastanza Possiamo andare avanti Un attimino Perché c'era una curiosità Allora Chiara Ferragni È stata un po' Vogliamo dire Scaricata Banalmente Un po' volgarmente Da molti dei suoi sponsor Siamo via di V Si defilano Non ci sono più Comunque Ho sentito Ho letto il titolo Perché figurati Se leggo l'articolo Io dovevo fare La lavastoviglie Che Chiara Ferragni Questo è un tema Effettivamente Poi la nostra vita E quella va male Quindi leggiamo i titoli E via Sì non avevo voglia In quel caso Leggo il Financial Times Arriviamo dunque È stata scaricata Anche da una società Che si stava occupando Di risanare La sua immagine O è sbagliato Dire così Allora Non ho informazioni dirette Quello che poi Se avessi cliccato Il titolo E letto l'articolo Poi dentro l'articolo Sembra che sia È stata Ripeto Da notizia di stanza Di stampa Una decisione Presa di comune accordo Quindi Poi è chiaro Che nel titolo Fa molto più effetto Dire è stata scaricata Da Quindi non è vero Non lo so Non lo so se sia vero Pare che sia stata Leggendo in maniera Un pochino più approfondita Una decisione presa Di comune accordo Io Ho un'idea Diciamo molto forte Dicela Dicela No nel senso che Secondo me Allora in primis La società di cui Stai parlando Se ne si può dire Perché è community Di Europa Lomba Che tanto è stato Insomma Lui stesso ha anche fatto Un'intervista su Sette A gennaio Mi pare Sul tema Chiara Ferragni E diciamo che Secondo me C'è stata anche un po' Di Se vogliamo Di opportunismo Nella gestione Di tutta la situazione Da entrambe le parti Perché Perché evidentemente Europa Lomba È un esperto di comunicazione Molto Ben introdotto Inserito Sicuramente anche Di grande successo Di grande competenza Sul tema della comunicazione Io contesto il fatto che Secondo me Non è un esperto Di crisis management Nel senso che Nel senso che Peraltro Se guardate il sito Di community Non si vendono Come esperti Di crisis management Attenzione Loro dovono ripulire L'immagine Esatto Cioè loro sono degli esperti Di reputation management E di comunicazione Poi hanno anche Una practice Di comunicazione Nella crisi Il punto è che La regia Nella crisi Non può essere affidata A degli esperti Di comunicazione Così come non può essere affidata Ad esempio A dei legali Deve essere affidata A qualcuno Che ha una trasversalità Di approccio Io questo dico E ben inteso Che non sto dicendo Che loro Si siano venduti Come Cioè Però Le notizie di stampa Hanno parlato Di questo super consulente Che coordinava la crisi Secondo me Non era Non era Lui O comunque Non era La società Che doveva coordinare Diciamo la crisi In questo modo E forse se ne sono accorti Entrambi Non lo so Questo non lo so Perché ovviamente Non conoscendo La relazione all'interno Non posso giudicare Ma Voglio anche precisare Perché sennò Sembra che sto tirando L'acqua al mio mulino Avrebbe dovuto prendere Un consulente Di crisis management In realtà Secondo me Poteva anche Non prendere un consulente Detto proprio E lo dico contro In interesse Non essendo una crisi Secondo me Arci difficile Da gestire Posto che i consulenti Crisis management Ve l'ho detto Già la volta scorsa Quando sono qui ospite Il crisis management Parte dalla prevenzione E dalla preparazione Quindi 90% del nostro lavoro Si fa prima Nel momento in cui Si verifica una crisi Puoi prendere qualcuno Che ti supporta Naturalmente Però Chiaramente Il beneficio È molto marginale Lì ci doveva essere qualcuno Al fianco di Chiara Ferragni O Chiara Ferragni stessa O comunque nel suo entourage Il management Quindi delle società Che doveva capire E diciamo Con una consapevolezza Diversa Sull'importanza La gestione della crisi Coordinare tutte le tematiche Trasversali La mia impressione Che si siano mossi Parlo di Chiara Ferragni Delle sue società In maniera un po' Disordinata E disorganica Tra gli aspetti Di comunicazione Da un lato Ad esempio Gli aspetti legali Dall'altro Perché comunque Anche dal punto di vista Legale Al di là delle inchieste In corso Delle indagini Della multa Della GCM Anche alcuni comunicati Che i legali Hanno fatto uscire In considerazione Ad esempio Dell'interruzione In rapporto Con Pigna Faccio un esempio Se vi ricordate Pigna ha abbandonato Diciamo Chiara Ferragni E pubblicamente Diciamo Ha scritto Un comunicato Parlando dell'interruzione Del rapporto E il team Di legali Di Chiara Ferragni Ha risposto Sostanzialmente Con una diffida Minacciando poi Una causa Eccetera Allora Fermo restando Il pieno diritto Da parte di Chiara Ferragni E delle sue società Di far valere Appunto I propri interessi Nelle sedi competenti Dal punto di vista Secondo me Comunicativo Mediatico Bisognava coordinare Un po' di più Gli aspetti E cercare una collaborazione Con tutti gli stakeholder Mi sembra che forse qui Più che trovare Un consulente Servia a fare Una bella squadra Ma con poi Magari qualcuno Che prima Che chiunque Prendesse una gestione Dicesse Fermi tutti Allora Se lui fa questo Cosa succede Ma è una cosa Che avviene Però secondo me Cioè appunto Normalmente Cioè avviene in famiglia Non so come dire Mi verrebbe in famiglia Ragazzi Mi hanno proposto Un lavoro A Berlino Ok Ci andiamo Andiamo E sì ma il piccolo Giacomo Come fa a fare la scuola Allora sentiamo No è vero Banalmente Sì La gestione della crisi È buonsenso Solo che Buonsenso in inglese Si dice common sense E gli inglesi dicono Common sense is not so common Cioè non è così Allora Ce ne siamo accorti Noi in pandemia Il buonsenso Ognuno deve Il suo buonsenso Ne usciremo migliori Ma infatti Il discorso è proprio questo Cioè siccome è una disciplina Che si applica al buonsenso Il buonsenso poi È difficile da mettere in campo Soprattutto quando sei molto Sotto pressione Metodi che in tempo di pace Nella calma di uno studio radiofonico Adesso ci sembrano banali Mi rendo conto che poi banali Non siano nel momento in cui Devi effettivamente gestire la crisi Però appunto Questo denota mancanza di preparazione Mancanza di consapevolezza Li ha cazziati tutti Alberto No ma fa bene Perché poi mi fa ridere Che sono gli stessi Gli influencer Che poi però fanno yoga Meditazione E tu dici Saranno delle persone centratissime Che tutto il giorno C'hanno il completino da sponsorizzare E invece poi Allora Alla prima vanno fuori di testa In un attimo Cioè io li capisco Ma la verità Perché è una pressione Che è inarrabile Io anche che faccio questo lavoro Sulle crisi mie Io avrei bisogno Di un consulente Aiutate Alberto Matti Nel senso che E poi È sempre Quando tocca a noi È sempre più difficile Quindi io umanamente È vero È vero Io umanamente capisco tutto E ripeto Noi probabilmente Ma anche lì Chiara Ferragni Non è che sia Un'imprenditrice Di scarso livello Necessariamente Certo Lei probabilmente Non ha mai voluto Fare l'imprenditrice Non si è mai curata Di quegli aspetti Perché poi fare l'imprenditore L'imprenditrice Naturalmente è un lavoro A tutto tondo Lei ha sicuramente Altre qualità Perché ovviamente Le qualità ce le ha Per avere Diciamo Questo tipo di seguito E questo tipo di successo Che ha avuto Però Sai Lei ha venduto Una narrazione In particolare Se vi ricordate A Sanremo L'anno in cui c'è stata Quindi Non quest'anno L'anno scorso In cui ha caricato Molto l'aspetto Ma già Anche prima Di quel Sanremo lì Del fatto che Lei era un'imprenditrice Digitale Non un influencer L'ha usata lei La parola imprenditrice Quindi Lei o comunque È nato questo termine Lei è un po' la pioniera È stata un po' la pioniera Diciamo Ha iniziato più di dieci anni fa Quindi Era una Una via Ancora un pochino Da scoprire Ecco Lei è andata per prima Mettiamola così Forse un merito Che tutti possiamo Comunque Dargli È che Se esiste questo sistema Se esiste questo mestiere Diciamo che un po' Se l'ha inventato anche lei Sicuramente Un po' Sicuramente Nel mondo Non solo in Italia Ma che lei abbia dei meriti È fuori discussione Certo Non è il punto Signori Quando ci si diverte Il tempo passa E quindi sì Siamo arrivati alla fine Chissà se Alberto Tornerà mai qui con noi Non credo Quando mi chiamate Non è contento Non si sa come è contento Non si sa perché Deve avere una crisi Interiore Veramente Grazie Alberto Mattia Grazie a voi Grazie Fabio Per avermi avuta qui Anche questo venerdì Ah no pensavo Dicevo grazie Per avermi invitato Anch'io No pensavo No vabbè Sai ti ringrazio sempre Grazie mille Silvia Basta Stai qua tu Basta Noi ci rendiamo Allora Ciao Buon weekend Sigla